Ma la ripresa non poteva venire e non è mai venuta e non verrà mai finché non si farà una cosa fondamentale, cioè si abbandoneranno le politiche fallimentali che sono state pagate da Bush con la sua mancata rielezione nell'ultima occasione del candidato repubblicano, il fallimento di Bush dovuto alle politiche di rilancio dell'economia e di ripresa via riduzione della tassazione e riduzione della spesa pubblica. Ho spiegato milioni di volte perché questa politica in condizioni di economia non particolarmente in crescita è fallimentare, perché i poveri non pagano le tasse, quindi non hanno nessun beneficio. La classe media è vero che riceve dei soldi, ma non li può destinare a consumo perché deve fronteggiare l'aumento del costo dei servizi derivante dal taglio delle spese pubbliche che fa la pandà alla riduzione delle tasse. E i ricchi che già hanno tutti i loro consumi sistematici, perché se no non sarebbero ricchi per definizione, non investono nelle attività produttive, perché non c'è la ripresa, perché non ci sono le prospettive di profitto, questo è l'errore fondamentale che tutti i governi di questo economico hanno fatto. I privati ricominciano ad investire quando ci sono prospettive di ripresa, quindi l'unico strumento che ci rimane per agganciare prospettive di ripresa sono buoni, sani, investimenti pubblici. Ora, qual è il problema? Che noi possiamo da una parte, anche per esempio in Italia in nome della riforma federalistica, accettare il pareggio di bilancio anche per legge costituzionale degli stessi stati nazionali, però allora occorre che a livello europeo ci sia un'istanza nella quale si fanno investimenti sul potenziale, perché finché non investiamo sul potenziale di sviluppo non faremo nessun incremento dello sviluppo, finché cioè si continua solo a gestire l'esistente è chiaro che non ci saranno buone prospettive di inserimento per i nostri gioveri, quindi perché ciò accada occorre che ci sia una istanza nazionale, locale, internazionale, sovranazionale, su questo poi si può studiare, che faccia quegli investimenti finalizzati allo sviluppo stesso. Dopodiché ovviamente si può fare una politica di riduzione della presenza dello Stato quando i privati fanno tanti investimenti, affinché i privati non investono chiaramente non si può pensare di uscire dall'attuale situazione. Il secondo aspetto che avrebbe affrontato è quello di come si gestisce questa massa di titoli tossici, di derivati che bene o male pende sulla testa dell'umanità come una minaccia enorme rispetto al nostro futuro e lì occorrono ovviamente accordi internazionali fra gli Stati Uniti, la Cina, l'Iria, la Russia come minimo per cercare di arrivare ad una soluzione. Ma c'è un punto fondamentale rispetto al quale noi qui in Italia dobbiamo cercare di riflettere su quelli che sono gli obiettivi e le prospettive che abbiamo di fronte. La maggior parte di coloro che possono fare investimenti di carattere finanziario, mi riferisco ai privati, mi riferisco alle famiglie, mi riferisco alle imprese, nel contingente, domandano titoli di Stato. Il problema è che spesso quando poi vanno alla banca, perché non li possono comprare direttamente, la banca gli continua a consigliare quei titoli che poi magari nel tempo si rivellano tossici. Non ci dimentichiamo che le tanto decantate agenzie di rating, 5 minuti prima del fallimento della Parmalat, vendevano i titoli della Parmalat con le 3 A, 5 minuti prima del fallimento della Mary Lynch, vendevano i titoli della Mary Lynch con le 3 A e via dicendo. Cioè attenzione, qui si continua a giurare su dei soggetti che sono deputati alla devastazione, non alla sana gestione e al consulting a microloquie. anche la Mary Lynch è fallita? Anche? La Mary Lynch o la Lehman? La Lehman è promise. No, perché dentro la Mary Lynch, perché io sono, anche lei è fallita. Cazzo, ma non l'hanno salvato, poco care. Come facciamo? Non è bisogno che tanto scusiamo, perché le agenzie di rating per il tema di sì. È mio, è saltato. È in sua, è in sua, è in sua. Perché è saltato? Perché ho parlato della Mary Lynch. Vabbè, insomma, la Lehman e la Produs è lo stesso, fino a pochi minuti, diciamo minuti, prima che andasse per aria la Lehman e la Produs, le agenzie di rating avevano, lasciavano le 3 A dei famigilatori. anche sul sito dell'Abi. Sì, va bene, ma quelli sono meno quotati. Allora, stavo dicendo, quindi dal 2001, le banche, trimestre di trimestre, siccome c'era la ripresa, siccome c'era la ripresa, hanno continuato a fare i derivati, ma visto questo appoggio illimitato della FED, seguito il 26 ottobre dal Vertice UE, continueranno a farlo, ripeto, senza nessuna condizione contropartita, nemmeno il minimo, che è quello di farci comprare, se vogliamo comprare, i nostri titoli di Stato. E qui apro una parentesi che riguarda la Grecia. Innanzitutto, la cosa che più mi colpisce, il debito greco sono poco più di 300 miliardi di Euro. In questi tre mesi in cui la Merkel un giorno diceva aiutiamo la Grecia, il giorno dopo non aiutiamo la Grecia, il giorno dopo forse, il giorno dopo non lo so, eccetera, eccetera, i mercati andavano su e giù. Abbiamo perso 2.400 miliardi di Euro nel corso dell'estate, in questa sceneggiata della Merkel e degli altri sull'aiuto alla Grecia. Allora mi domando, è possibile sostenere un sistema che per non intervenire sul rifinanziamento del debito greco, perché poi di quello si tratta, perde 8 volte di più, ci fa perdere 8 volte di più. Ecco, questa è un'altra domanda. E vado avanti. Ma oggi probabilmente la gestione del nostro debito pubblico per evitare guai maggiori dovrebbe fare un po' il contrario di quello che abbiamo fatto nel recente passato, che abbiamo allungato i tempi e cercato di ridurre i tassi di interesse. Noi adesso ci siamo quindi basati sui BTP a 10 anni e quello è il riferimento principale. Invece adesso bisognerebbe emettere titoli quinquennati al 4%, ammettendone l'acquisto non solo a prodotti contro termine, come è normale, ma anche con titoli a lunga scadenza e a più alto tasso di interesse, in modo di ottenere un abbassamento di tutto il debito e una credibilità nella solvibilità del nostro sistema. Non ci costerebbe niente, anzi ci metterebbe in condizioni di gestire meglio il debito, ma sono idee che si sa perché non devono venire fuori. Da dove ha originato questa crisi? Secondo me non ha originato dal lato finanziario, ha originato dal lato reale. Il problema fondamentale è che il nostro è un sistema che prega il peggior produttore. Mi spiego meglio. Noi ormai abbiamo mutuato, qualche tipo ci sta avvenendo finalmente, il fondamentale paradigma dei nostri sistemi, e cioè che i costi vanno minimizzati, perché parliamo di microeconomia e sappiamo che cosa significa fare impresa, ma poi ci dimentichiamo tutto quando passiamo alla macroeconomia e pretendiamo che quelle stesse voci, che sono il lavoro, l'ambiente e la sanità, siano massimizzate perché lì nella macroeconomia diventano valore. Il sistema è entrato in crisi quando questa schizofrenia, invece di essere gestita come è avvenuto fino a tutti gli anni settanta, inizio degli anni ottanta, si è preteso di lasciarla correre e quindi in sostanza da una parte i produttori che non dovevano rispettare le leggi, che non dovevano rispettare un minimo di tutela dell'ambiente, che non dovevano rendere conto dell'impatto di certe attività sulla salute delle persone che usavano il lavoro minori e quant'altro, venivano premiati dalla cosiddetta globalizzazione. Questo però non ha avuto un impatto zero, ma ha accorciato il ciclo del prodotto di tutti i beni, anche di quelli altamente tecnologici, altamente innovativi che hanno innescato la crisi del 2001. Da allora non ci siamo più ripresi perché l'accorciamento del ciclo del prodotto è il sintomo di mercati più di sostituzione che in crescita e questo è esattamente ciò che concreta una situazione di ristagno economico e produttivo. Poi nell'ambito dell'economia non reale ma finanziaria l'errore fondamentale, che poi magari possiamo farlo anche tutti se abbiamo dei risparmi, è quello di pretendere una recuperazione dalle attività finanziarie strutturalmente, stabilmente superiore rispetto a quella che viene dalle attività produttive e che dipende dalla produttività della tecnologia, del sistema, dell'organizzazione del lavoro, delle capacità organizzative, di produzione e via dicendo. Strutturalmente questo non è possibile e quando avviene nel tempo rispondere a una distruzione di risparmio che è esattamente quello cui assistiamo nelle borse ma anche nell'ambito del mercato obbligazionato. Ci sono tanti modi per uscire da questa situazione, per esempio nel mio libro che tu hai fatto vedere, si fa un ragionamento sul fatto che nel passato il sistema si basava su una doppia, su una tripla circolazione monetaria e che non è vero niente, che la moneta unica sia la panacea di tutti i mari, anzi si rischia esattamente il contrario, che la moneta unica diventi insostenibile se non ammette invece la circolazione di altre monete. Quello però è la mia disposizione, non è che cinque minuti posso spiegare il doppio da dire la circolazione monetaria. Adesso facciamo un piccolo, per concludere, un piccolo programmino di governo prima di arrivare a una conclusione, visto che sostanzialmente ho visto un passato di una cosa di Mario Monti che c'era e cioè, anche se in modo meno chiaro di come la scoperti del mio faccio, cioè sostanzialmente noi dobbiamo per sanare i conti pubblici ammettere tutte quelle misure che non riducono le possibilità del nostro sviluppo di lì a sei mesi, a dodici mesi. Questo è stato l'errore dei governi precedenti, compresi quelli di centro-sinistra. Noi dobbiamo ammettere tutte quelle misure che apportano risorse o riducono anche le spese pubbliche, ma non minando le basi dello sviluppo a dodici mesi, perché quando poi noi riduciamo il deficit, ma a dodici mesi prevediamo che non ci sarà sviluppo, i cosiddetti mercati ci penalizzano e quindi ci riportano indietro. Facciamo due esempi. Se io metto il TFR in questa paga sicuramente faccio crescere i consumi, sicuramente faccio crescere le entrate dello Stato, spiazzo i signori della previdenza complementare, ma in questo momento più che di previdenza complementare dobbiamo pensare a come passare la nottata e quindi stimolare lo sviluppo anche attraverso la leva dei consumi, per fare un esempio. Se io riduco di 50 euro invece anche bloccando gli stipendi, la rinunerazione dei dipendenti pubblici, per fare un esempio, ho calcolato che sia un effetto in un anno, di 250 euro al mese di stipendi di dipendenti pubblici, sia un effetto di perdita di 7.800 posti di lavoro nel campo dell'economia, diciamo così privata. Ma questi 7.800 in meno significa poi alla fine dell'anno che avremo meno versamenti previdenziali, quindi avremo un tendenziale disavanzo dell'Ips, avremo aumentato gli ammortizzatori sociali, almeno per una parte di questi 7.800 e quindi ci sarà stato un aumento della spesa pubblica. Quindi alla fine l'effetto iniziale di una riduzione di 50 euro al mese sugli stipendi di vendenti pubblici, alla fine dell'anno non solo viene completamente mangiato sul frutto del deficit, ma produce un rallentamento nelle prospettive di sviluppo e quindi una condanna nostra da parte dei militati ed un aumento dei tassi di interesse sulle offerte dei dittori, che a sua volta ovviamente produce un aumento del deficit. Quindi nel tempo 0 abbiamo una riduzione del deficit, nel tempo 1 abbiamo una mancata riduzione del deficit, nel tempo 2 abbiamo un aumento del deficit. Ecco perché dobbiamo uscire da questo, ho finito, da questa cosa. Quindi dovrei dire qualcosa sull'evasione fiscale, di non banale, ma non ce la faccio, del deficit europeo potenziale, ne ho parlato. Ecco l'ultima cosa che riguarda l'Italia che è fondamentale, che vale dagli 80 ai 120 miliardi. Dobbiamo uscire dalla falsa alternativa fra svedita del patrimonio pubblico oppure suo abbandono. Dobbiamo entrare in una logica di gestione, bisogna fare accessimento dei beni delle amministrazioni, delle istituzioni soprattutto locali, perché c'è tantissimo, c'è tantissimo. Ci sono terme. No, no, a Vitermo, l'Inps, per il quale io lavoro, ha una terma che è spaventosa, è bellissima, è abbandonata. Adesso la privatizzano, la svegliono a due soldi oppure la lasciano lì abbandonata. No, va affittata a dei privati che diano un minimo di garanzia, gruppi credibili, adesso sono fatti avanti dei gruppi interessanti e allora si negozia con loro e ci pagano l'affitto, ristrutturano, ci si mette d'accordo, si trova un prezzo, poi si fa la cara europea, non si fa la cara europea, adesso questi sono dettagli. Ma questo è fondamentale per andare avanti in questo paese. Ultima cosa, purtroppo, che devo dire, adesso suonate, non ci dimentichiamo che se non riusciamo, anche con la volontà popolare, ad imporre un cambiamento tempestivo di questa situazione e i modi ci sono, ha spiegato molto Marco Della Luna, spero di essere stato chiaro io, la prospettiva alternativa purtroppo è come stato prima della prima guerra mondiale e prima della seconda guerra mondiale, quel tipo di evento, quel tipo di evento, non ce lo dimentichiamo. Già è in programma la prospettiva di un bombardamento dell'Iran e la cosa che più mi inquieta è che i servizi segreti israeliani, i vertici militari israeliani, i servizi segreti americani, i vertici militari americani, non sono d'accordo. Ma allora chi è d'accordo? Chi è che sta preparando in questo attacco? Grazie, grazie Nino. La domanda che volevo fargli perché è stato interessantissimo il suo intervento era la seguente. Secondo lei, secondo te, attraverso questo aumento dell'eventuale spesa pubblica che potrebbe essere una soluzione per risolvere i problemi, liberalizzazione, privatizzazione, europeo. Siamo in grado di, voglio dire, non solo abbattere quello che è il deficit tendenziale anno, oggi siamo in avanzo primario ma gli interessi sul debito sono circa il 4% di 2000 miliardi di euro, quindi circa 80 miliardi di euro all'anno. Tutto questo è possibile, voglio dire, siamo in grado attraverso questi provvedimenti di coprire non solo il deficit ma andare ad abbattere molto debito se non con una mega patrimoniale? Io potessi scegliere e eviterei la mega patrimoniale, preferirei invece un'azione intelligente sui mercati secondari perché poi, vedete, per quanto riguarda i cosiddetti debiti sovrani, i problemi nascono sui mercati secondari, cioè tutte quelle persone che acquistano titoli a 10 anni e poi devono liquidizzare prima. Allora lì diventa particolarmente importante la valutazione del Paese perché c'è la svalutazione del credito da parte dei, però se poi ci mettono il carico da 90 a queste agenzie di rating occorre che ci siano degli interventi, per esempio il Fondo Salva Stati che è in sigla, in pronunciato, poi mi domando quando si fanno le politiche della comunicazione, si spendono centinaia di milioni di euro per la comunicazione a livello dell'Unione Europea perché non si riesca a trovare una sigla più facile da esprimere che è FF, FF, FF. No, no, europea. Ecco, dico, quello è stata una buona idea all'origine, però poi è rientrato, questo l'aveva previsto Jacques Cheminard, quest'estate, io ho detto che era troppo maligno, invece c'era ragione lui, che praticamente sarebbe finito come cavallo di Troia per poi aiutare le banche, il fondo salvastato. Io non ci ho creduto all'inizio, pensavo che si fossero rinsabiti e che praticamente volessero intervenire sul mercato secondario perché se tu acquisti poi i titoli in scadezza o interveni sul mercato secondario il problema è risolto. Tra l'altro ripeto, quando si vendono i titoli, le nostre aste non è che fanno deserte, uno non si riesce a piazzare tutti i titoli, c'è di più, la gente vuole di più e non ci sono, quindi perché aumentano i tasso di interesse? Dovrebbero calare i tasso di interesse, allora rivolgiamoci solo al mercato interno paradossalmente, inutile che li vendiamo all'estero e per vendere qualche miliardo all'estero facciamo aumentare il tasso di interesse su tutta l'emissione. Tra l'altro quando si devono vendere obbligazioni, se ti servono 10 miliardi e ne vendi 9 a un prezzo basso, ti conviene chiudere lì, non che per vendere l'ultimo pezzo fai aumentare lo spread su tutti i 10 miliardi, però purtroppo queste sono cose su cui dobbiamo interrogarci, perché è come parafrasando quello che dissi la prima volta che tornai dal combo dove c'è il fratello missionario, che partì con l'idea che le politiche monetarie sbagliate avevano determinato il genocidio, invece tornai dicendo che il genocidio era l'obiettivo e le politiche economiche sbagliate e il modo per conseguirli. Io adesso mi domando di fronte al rapporto fra il debito della Grecia e gli 8 volte di più di perdite nelle borse ogni volta che a Grecia sì, Grecia no, questi 16 trilioni della Fed con prospettiva di arrivare a 100 trilioni che non ce le hanno nemmeno, non ce la fanno neanche materialmente a stampare tutti quei dollari. Non è che per caso c'è qualcuno che invece preferisce la catastrofe finanziaria e quindi dobbiamo fermare un tempo nel nostro interesse, come si dice sempre dei nostri figli, ma anche del nostro perché non sono dei nostri figli, finché siamo in tempo. La domanda delle domande oggi è questa, ma come siamo governati da gente che proprio non riesce a capire come funziona l'economia, come funziona la finanza, oppure c'è qualcuno che vuole questo risultato perché vuole cavarsi dai pasticci che l'ha venato in questi anni.